A tutti i patentati alzino una mano se gli regge, perché potrebbe portare anche sfiga questa cosa, quindi no. Nezzo una mano alzata, anonimicità. Basso profilo. Profilo basso. Ho tamponato in due quarti e proprio fuori ad un parco e ci ho nato un'unica che è tutta in divenire. Poteva fare le mani, mi poteva andare peggio, invece no. Non abbiamo fatto un altro giù. Ma ha detto bene, proprio bene, che in grattia ci avevo anche fuori. Ma ha detto bene, proprio bene, che si è fatto male. Mi immaginavo all'ospedale, si è tanto già a paternale alla parte mia che gli diceva a Dio. Ciao, ciao, ciao. E poi rimane il tuo male, il cielo matto da regali, questo qua ormai non è più figlio mio. Ma ha detto bene, proprio bene, che in grattia ci avevo anche fuori. Ma ha detto bene, proprio bene, che in grattia ci avevo anche fuori. Ma ha detto bene, proprio bene, che in grattia ci avevo anche fuori. Vieni, proprio vieni, che tanto c'è l'invoa che fumo a te, tu vieni, proprio vieni, che sei fatto male. Belli, 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 Gianni Belli, bravo. Laio Gassone!